Signore, ascolto, buonasera. Siete collegati in diretta con il Giant Stadium del New Jersey. Sei pronto? A tavola! Ho filmato quella Fiorentina per 2 miliardi e 700 milioni. Così mi ripaghi i vetri che hai rotto in officina? Tu per noi sei come Maradona per l'Argentina. Maradona è buddista, pure tu non è buddista. Guarda che a me non mi converti. Il nostro mondiale comincia ora. Se ogni volta che tocco la palla io la devo dar via di prima, come faccio fare, non so, un dribbling? Vesi solo a te stesso, non fai gruppo. Ma forse i tecnici trattavi sempre peggio degli altri, invece di credere in me una volta. La cosa importante che devi capire è che dipende tutto da te. Se vuoi, ammazzami. Non devi dire neanche per scherzo questa roba. Neanche per scherzo. Più di vent'anni in un pallone. Più di vent'anni da stare con rigore. Ti ha fatto vedere che sei umano. Puoi scoprire che è la vita. Sei lì che determini la tua esistenza. Quindi adesso te ti alzi. Allora, che vuoi che ti dica che ti porto al mondiale? Giovanni, questo è l'ultimo mondiale, però. Ha bisogno di noi. Ha bisogno della sua famiglia. Perché siamo contenti. Di cosa? Che giochi con noi. Ancora non ci vediamo. Tutti passano la palla al baggio e te fai i gol. Guarda che sei te che devi credere in te stesso. E' un campione che toccava ogni pallone, come se fosse la vita. Non so, potrà sembrarti un'esagerazione. Ma pure quel rigore Mi ha insegnato un po' la vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti